Una scelta poco oculata che dimostra mancanza di programmazione. Il consigliere regionale di Forza Italia, Mauro Febbo, giudica in questo modo la decisione della ASLE di Chieti di rinnovare la dotazione tecnologica di radioterapia e diagnostica dell'ospedale Teatino con l'acquisto di nuovi macchinari. Febbo, sostenuto in conferenza stampa dei rappresentanti locali di Forza Italia, ritiene che l'affidamento da oltre 24 milioni di euro è tutto da verificare e annuncia per questo la convocazione del direttore della ASLE Flacco in occasione della commissione di vigilanza in programma la prossima settimana. Avere macchinari di alta tecnologia per esami importanti fa piacere, però ci poniamo alcune domande che sulla delibera ci vengono spontanei. A oggi la ASLE di Chieti ha due macchinari, uno acquistato nel 2014 e uno, oramai ho solito, acquistato nel 2006. Vorremmo capire perché quello acquistato nel 2006 nel frattempo non è stato cambiato, non è stato sostituito. C'è un gruppo di lavoro composto da 13 professionalità di altissimo livello, come peraltro ci sono 9 primari, 9 direttori di UO. Nella delibera ci sono allegate solamente tre relazioni di questi primari che peraltro fanno delle prescrizioni, mettono in evidenza alcuni fatti e non si danno risposte. Nel valutare positivamente l'aspetto economico si fa riferimento esclusivamente a tabelle che intanto sono contraddittori tra di loro perché si raddoppiano i numeri, ma soprattutto si fa riferimento solamente a quella che è la mobilità passiva e non fa alcun riferimento a una mobilità attiva. Ci sono due relazioni, una del RUP e una della dottoressa Vecchi che è consulente già conosciuta per il project finanziamento dell'ospedale di Chieti, la dottoressa Vecchi sottoscrive la propria relazione in data 8 agosto, ma fa riferimento ad una relazione del RUP sottoscritta il 16 agosto, cioè 8 giorni dopo. Credo che ci sia qualcosa da rivedere nelle relazioni, ci sia qualcosa da rivedere nei costi, ci sia da giustificare una mancata programmazione che mi sembra molto palese.